Si torna ad aprile col Salone 2023, siamo qui alla conferenza stampa e siamo molto felici di annunciare un ripensamento del layout su un unico livello, un'esperienza di visita più fluida, più a misura di visitatore. La settimana del Salone è la più dura ma anche la più bella per tutte le aziende che vi partecipano, c'è il meglio della produzione dell'arredamento da tutto il mondo e tutti i buyer e i design lover arrivano da tutti i continenti per essere a Milano al Salone. È un momento incredibile, è un vero e proprio detonatore di energia, di business, di creatività e di innovazione. Quest'anno ritorna EuroLuce, la biennale dedicata al mondo dell'illuminazione che vede una grande metamorfosi nel suo layout che include oltre alle migliori aziende anche contenuti culturali, anche una riflessione scientifica, una serie di interventi a cura di grandi architetti, importanti curatori che rispecchiano quello che è il mondo del design e dell'illuminazione oggi. Un luogo di incontro, un luogo di scoperta, un luogo di ricerca, davvero un nuovo modo di vivere le fiere.